Una proposta culturale rivolta a tutti, a due passi dall'area che ospiterà l'arena del tennis. Proiezioni all'aperto con testimonianze della vita culturale cittadina da Edoardo De Filippo che racconta il suo teatro alla festa per il primo scudetto del Napoli nel 1987. È il Cinema Asdraio, organizzato dal Comune in collaborazione col Centro di Produzione RAI di Napoli, che per sei serate ha intrattenuto i visitatori sul lungomare Caracciolo con insoliti filmati d'archivio. Domenica sera la rassegna si è conclusa col concerto che Lucio Dalla tenne nel 1995 in piazza Plebiscina.